benvenuti a un mio nuovo video in questo video come dal titolo parleremo della season 2 di fornite proprio stamattina online è apparso questo video in cui dimostra che in una metropolitana in brasile se non erro è apparso questo trailer della season 2 di fornite alla si vede solamente la scritta fornite con una mano scheletrica dorata questa si collega appunto alla skin oro che dove uscire secondo i rumors in questo periodo su fornite insieme all'evento oro in cui come state per vedere nelle immagini nell'isola al centro della mappa in quella casa tutti gli oggetti all'interno diventavano d'oro ed erano indistruttibili perché appunto questa skin faceva diventare d'oro qualsiasi cosa che toccava però cosa è successo in questi giorni non è successo nulla non c'è nessuna traccia di questo evento quindi molto probabilmente l'evento sarà rinviato per la season 2 forse appunto lo vedremo lì sa di fatto che molto probabilmente se questo trailer è giusto perché non si sa se è real o fake prendetelo con le pinze finché non esce qualcosa di ufficiale da parte di epic ma comunque se questo dovrebbe essere tutto vero significa che la skin oro sarà la skin di livello 100 del pass battaglia quindi questa è davvero una grandissima cosa e se notate ci sta molto bene come skin finale comunque in questo trailer a parte queste due cose c'è anche un numero che chiamandolo ci fa sentire una specie diverso di gatto e anche questo qui è stato indicato dai leakers che formava una specie di immagine ad onda sonora non so il termine esatto che mostrava appunto questo spettrogramma in cui appunto si vedevano questi gatti e queste lische di pesce non si sa bene come si può collegare con la season 2 ma ancora appunto non si sa nulla di ufficiale quindi staremo a vedere se tutto questo è vero o fake ricordo che la season 2 dovrebbe uscire questo giovedì il 20 febbraio vedremo se appunto in questi giorni uscirà ufficialmente il primo trailer in questo caso in questo canale vi farò vedere tutto quindi ragazzi iscrivetevi al canale lasciate like e noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti